Salve a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale, io sono Davide e quest'oggi voglio parlarvi di un'intervista che è stata fatta da Cointelegraph al CEO di Ripple, Brad Garlin Howe. Prima di incominciare a parlare però dell'intervista voglio parlarvi un po' del, diciamo, curriculum di Brad. Brad che non è proprio l'ultimo arrivato, uno sprovveduto, si è laureato alla Howard Business School, stigassi, ha lavorato come vicepresidente capo per Yahoo e come presidente delle applicazioni di consumo per AOL. Non so ora che cazzo è, però se qualcuno di voi sa cos'è AOL me lo può tranquillamente dire. Inoltre poi ha fondato, logicamente, Ripple con il suo valore nativo, il ticker XRP, con la quale, ossia Ripple, collaborano più di 100 aziende, tra cui, logicamente, la maggior parte sono tutte banche o enti di pagamento e scambio di denaro contante, logicamente, di denaro fiat. Se ricordate Ripple, il 4 di gennaio ha toccato i suoi massimi storici, arrivando addirittura a 4 dollari e qualcosa, ora precisamente proprio non mi ricordo il suo massimo, e poi è sceso precipitevolissime volmente, a causa, logicamente, del mercato, il fatto che CoinMarketCap ha eliminato gli exchange della Sud Corea e, infatti, Ripple ha avuto un meno 20 milioni di dollari nella sua market capitalization, ma, momentaneamente, è la seconda al coin, come market cap, dopo, logicamente, Ethereum. E, inoltre, logicamente, il Ripple è l'unica, anzi, moneta centralizzata, criptovaluta centralizzata, tra le prime, diciamo, 20 criptovalute per market capitalization. L'idea di Ripple è quella di andare a sostituire e quindi affiancare tutti gli enti di credito e tutte le banche per dare la possibilità a questi ultimi di poter fare attività di trasferimento di grosse quantità di denaro utilizzando la blockchain della tecnologia di Ripple. Tutto questo per dare la possibilità di fare scambi molto più veloci, di fare delle attività di pagamento, logicamente, istantanee e senza avere rischi di, magari, o perdere il capitale o, logicamente, di avere un delay molto ampio di diversi giorni. Infatti, se uno prova a fare dei trasferimenti di denaro dal conto europeo a un conto estero, quindi Stati Uniti o addirittura Dubai, ci mettiamo anche 5 giorni per fare un trasferimento di denaro. Momentaneamente il valore della moneta Ripple è all'incirca su un dollaro e, centesimo più, centesimo meno, logicamente vanta di lavorare con più di 100 aziende, tra cui Webster Union, Lian Lian, un servizio di pagamento chiamato, un fornitore cinese di servizi di pagamento chiamato Lian Lian. La Santander, la banca più importante, la più grande banca spagnola, collabora con l'autorità monetaria dell'Arabia Saudita e, momentaneamente, vi ho detto, ha una capitalizzazione di mercato di circa 37 milioni di dollari e un valore per singolo token di un dollaro circa. Nell'intervista fatta a Brad, l'intervistatore, il giornalista, ha chiesto per quale motivo c'è stata questa impennata di prezzo, addirittura che arrivando a 4 dollari per singolo token nel periodo di inizio anno, poi ha detto per quale motivazione il valore di Ripple negli ultimi mesi è sceso e poi, insomma, ha chiesto l'utilità che ha, logicamente, Ripple, la tecnologia di Ripple, perché Ripple è l'azienda, la XRP è il token che funziona come moneta per scambiare all'interno della tecnologia, però, alla fine, realmente, la tecnologia che utilizza Ripple sono due tipologie, una on-chain, tutte e due on-chain, on-blockchain, quindi sopra la blockchain, però una utilizza i token Ripple, l'altra, invece, utilizza, viene utilizzata sempre su blockchain, ma senza token. Brad risponde comunque che Ripple è stata una criptovaluta che è stata creata per andare a sopperire ad alcune esigenze che, momentaneamente, il mercato economico e, soprattutto, le banche avevano come metodo di pagamento, quindi come metodo di scambio, avevano un'esigenza di creare un metodo di scambio di moneta, di grosse quantità di moneta, che fosse più rapido, sicuro e, logicamente, basato, quindi, su una tecnologia che non gli avrebbe dato rischi di perdita di capitale. Ed ecco, quindi, che Ripple è andato a sopperire a una richiesta, quindi è andato a sopperire a un'utilità che era già insita all'interno del mercato, ma che ancora nessuno aveva dato, diciamo, la soluzione definitiva. Ripple, in questo caso, ha dato la sua soluzione definitiva utilizzando, logicamente, la sua tecnologia basata sulla sua blockchain. Sappiamo benissimo che Ripple ha un max supply di addirittura 100 miliardi di token. Momentaneamente sono in circolazione 39 miliardi di token e vengono rilasciati mese dopo mese, se non sbaglio, in un anno 3 milioni e 600 mila. Quindi, all'incirca, per mese vengono rilasciati 360 mila token a volta. Ecco per quale motivazione, comunque, il prezzo di XRP non riesce a decollare, tranne nel periodo di gennaio. Perché, logicamente, l'immissione di questi token va a aumentare la circulating supply e quindi, aumentando il numero di token in circolazione, è logico che va a diminuire il prezzo. A meno che non c'è, a fronte di questa nuova emissione di moneta, di token, anche una richiesta da parte del mercato. Però, momentaneamente, come vi ho detto, la moneta Ripple è all'incirca su un dollaro e comunque continua sempre a mantenere questo prezzo in maniera abbastanza stabile e duratura all'incirca da due mesi a questa parte. Brad ci tiene a comunque precisare il fatto che il valore di qualsiasi bene digitale verrà sempre determinato dalla sua effettiva utilità. Quindi, più diventerà utile, più diventerà indispensabile all'interno del mercato economico mondiale e più, logicamente, il valore del singolo token acquisirà valore perché più verrà utilizzato, più sarà utile come merce di scambio, logicamente, il token XRP. Vuole fare anche una prestazione in merito al fatto che la propria criptovaluta è centralizzata ma, a differenza delle altre criptovalute che, a dir sua, sono nate per andare a buttare giù quindi a eliminare il sistema economico finanziario e i governi che comandano tutto il gioco, logicamente, delle valute il progetto Ripple è nato per andare ad affiancare i governi e quindi, come ho detto prima, cercare di dare una soluzione che possa essere immediata e possa essere facilmente integrata all'interno dell'ecosistema economico mondiale e quindi governativo. Alla domanda di cosa pensasse Brad per quanto riguarda le regolamentazioni che stanno venendo fuori in tutto il mondo e soprattutto quindi anche le regolamentazioni per quanto riguarda gli Stati Uniti dove Ripple ha sede legale la risposta è stata che la moneta Ripple è stata creata comunque per cercare di far, di migliorare ancora, lo dico ancora una volta, di migliorare il sistema economico già presente all'interno dell'economia mondiale e non per sostituirlo, quindi la sua tecnologia andrà a far migliorare soltanto il metodo di scambio e la sicurezza di scambio e quindi anche la tempistica e la velocità di transazione per quanto riguarda tutti gli scambi di moneta ma questo non vorrà dire che grazie alla tecnologia Ripple non ci saranno più le certificazioni che ancora oggi le banche richiedono per aprire i conti in banca, per effettuare transazioni e quant'altro insomma nel momento in cui, è come se nel momento in cui io andassi in banca e solo e soltanto perché ho la moneta Ripple come moneta di scambio andassi in banca e ritirassi i soldi senza avere neanche un conto senza neanche essere riconosciuto tramite una carta bancomat o quant'altro quindi è una tecnologia che sta dietro le fila, anzi dietro la facciata che noi già conosciamo da decine e decine d'anni quindi è soltanto una tecnologia migliorativa e non sostitutiva in definitiva voglio parlare delle mie conclusioni per quanto riguarda l'utilità della moneta Ripple e logicamente l'utilità della tecnologia perché la moneta è soltanto un mezzo per un fine ma logicamente il vero fine viene attuato grazie alla tecnologia che c'è dietro la moneta e quindi che è stata creata da Ripple, dall'azienda Ripple Ripple grazie alla tecnologia blockchain è stata intelligente a creare un qualcosa che va diciamo in maniera intermedia e un qualcosa che può subito dare una mano agli enti economici quindi banche e governi quindi è riuscita a crearsi subito un ampio mercato perché è andata a dare una mano cercando di ovviare a dei problemi che già esistevano mentre tutte le altre criptovalute cercano di prendere le distanze dal sistema economico mondiale quindi dalle banche e dai governi cercano di creare una parete parallela a quella già esistente da ormai decine, centinaia di anni che noi tutti conosciamo mentre Ripple è un qualcosa che va di traverso certo Ripple come possiamo vederla oggi noi è la moneta e la tecnologia più utile e più diciamo anche utilizzabile all'interno del sistema economico mondiale moderno ma in un futuro che non sappiamo se sarà prossimo ma addirittura Brad dice sono sicuro che i governi cadranno ma cadranno sicuramente quando io non ci sarò già più quindi questo significa che secondo lui ma credo anche secondo me tutto ciò che le monete e le criptovalute cercano di portare alla ribalta ossia un nuovo sistema economico mondiale non si vedrà attuato almeno per i prossimi 30-40 forse anche 50 anni perché è come dire abbiamo creato le macchine volanti adesso che cosa ce ne facciamo delle strade è logico che per creare una macchina volante anzi senza andare troppo nel futuro abbiamo creato le macchine elettriche però fino a quando non ci saranno i distributori e daranno la possibilità di ricaricare le macchine in maniera efficiente veloce in maniera soprattutto per un tempo molto prolungato quindi senza aspettare magari 1-2 ore per poi fare magari solo 300-400 km avremo veramente il cambio da combustibile fossile a energia elettrica ed è la stessa cosa che stanno facendo le criptovalute e le banche centrali e quindi i governi in questo momento le criptovalute sono state create diciamo che possono già essere utilizzate all'interno del sistema economico mondiale ma momentaneamente non sono ancora utilizzabili al 100% infatti sappiamo benissimo che un mercato come Amazon il più grande mercato mondiale online ancora non accetta nessuna tipologia di criptovaluta pur avendola messa all'interno diciamo delle sue priorità aziendali ma è anche vero che grazie a questa moneta Ripple e quindi alla tecnologia blockchain che è dietro a tutte le criptovalute è possibile cercare di portare diciamo i due muri a toccarsi diciamo nel più breve tempo possibile e tutto questo grazie logicamente alla tecnologia Ripple è stata la tecnologia Brad quindi l'azienda Ripple è stata intelligente a far diciamo aumentare l'angolo di convergenza delle due pareti che viaggiano momentaneamente abbastanza parallele fra di loro ma è vero che con Ripple si è abbastanza ristretto l'angolo quindi spero di essere stato abbastanza chiaro di avervi esplicato il mio pensiero sulla moneta Ripple e soprattutto sulla tecnologia che c'è dietro che è comunque una tecnologia abbastanza rivoluzionale ma tutti sappiamo di cosa stiamo parlando di cosa sto parlando bene grazie per aver visto il video vi ricordo di mettere i vostri commenti cosa ne pensate sotto nei miei commenti vi ricordo di mettere mi piace di condividere il video di andare a visitare la mia pagina Facebook e il mio account steemitdavide.vasco e ci vediamo al prossimo video ciao